Un popolo che ti saluta col pugno chiuso, che ti saluta anche col segno della croce, perché questa è la grandezza di un rivoluzionario, di non essere solo il dirigente di una parte, ma il capo amato di tutto un popolo. Per questo sentiamo che oggi ci hai dato l'ultima, indimenticabile elezione. Ci hai fatto capire ancora una volta il valore del legame col tuo popolo, il valore del partito che tu hai voluto di massa, il valore della ricerca di una via originale di sviluppo della rivoluzione socialista in Italia. Tu hai compreso e indicato a tutti i lavoratori le condizioni nuove in cui costruire la nostra società socialista, la diversità dei compiti che stanno di fronte al movimento operaio dei Paesi capitalisti sviluppati, la necessità di guardare avanti con coraggio, con rigore intellettuale, con la passione rivoluzionaria. Ci hai indicato la strada da percorrere per condurre la classe operaia e il movimento popolare alla conquista di una società migliore, fatta a misura degli uomini.